Non li ferma più nessuno e ragazzi di rife di raffa la Juve vince facendo anche una partita tutto sommato più che sufficiente poi certo è che se ragazzi se Quarascheglia non sa più fare un gol diventa tutto più facile perché ragazzi il gol che ha sbagliato il Giorgiano nel primo tempo non deve esistere. Va bene quello di Di Lorenzo lì paratona di Scesni stratosferica c'è una parata lì col braccio di richiamo che non esiste veramente però c'è veramente mi ricordo ecco questa partita qua mi fa capire anche la grandezza di Luciano Spalletti che mi ricordo nei primi tempi che allenava appunto Quarascheglia disse fortissimo funambolico poi era un momento che gli riusciva tutto che magari lo marcavano anche meno era meno visionato però disse è un giocatore che ancora deve fare quello step mentale deve essere più tranquillo e non è ancora un grande giocatore cioè il valore non si discute però mentalmente paga il fatto che lo marcano di più che è più attenzionato che non gli riescono più le cose come l'anno scorso ma come non riescono a tutto il Napoli nonostante io continuo a dirlo il Napoli di Mazzarri è in forte crescita anche oggi ha fatto una partita di qualità di personalità magari sì dietro c'era qualche defezione non sono stati attentissimi poi il gol diciamolo è un bel cross di Gambiaso ma un gran colpo di Gatti che a Monza aveva fatto un gol un po' raffazzonato stavolta signori da manuale del calcio quel gol lì c'è un'incornata incredibile Gatti è l'uomo dei gol importanti segna il Torino segna il Monza nel recupero segna questa sera l'anno scorso in Europa League segnature decisive è l'uomo della provvidenza una volta era Daniele Massano negli anni 90 adesso è Federico Gatti è così e la Juventus è Coriace questa nel primo tempo ha sofferto si affidava i contropiedi Vlauic anche lui si è mangiato un gol perché lì devi bruciare il tempo a portiere difensore devi essere più veloce chiesa le sue solite svampate poi diciamo intuizione anche di Allegri Cambiaso intuizione che poi è necessità virtù mettere Cambiaso a destra che già nella prima frazione ha scaturito diversazioni e poi nella ripresa a inizio ripresa l'avete visto tutti ve lo raccontate adesso Gran Cross col Mancino verso la porta e poi la storia è nota a tutti Gatti sentenzia un'incolpevole Meret che nel primo tempo è stato protagonista anche di una bella uscita su quell'azione del gol secondo me comunque sbagliato da colpevolmente Dandusa Vlauic poi qualche occasione sì del Napoli però poi la Juventus quando va in vantaggio lo sappiamo si chiude dietro Ozyman con la difesa bassa della Juve non ha spazio per attaccare alla profondità e Ozyman nello stretto diventa un giocatore normale Quara è comunque anche lui è sempre raddoppiato perché io mi ricordo anche al Sharawi è normale il Sharawi i primi sei mesi al Milan ha fatto dieci gol che poi il Sharawi è un giocatore normale l'abbiamo visto nella sua carriera che ha fatto però i primi sei mesi al Milan negli studi di sette gol io mi ricordo veniva paragonato a un certo Neymar perché in contemporanea erano due talenti che esplodevano non so se vi e chi chiaro chi è nei mari e chi è il Sharawi dopo sei mesi già il gennaio ha iniziato a raddoppiarlo ad attenzionarlo di più e Sharawi praticamente nel giorno di ritorno ha fatto un gol nel derby Inter Milan 1-1 gol di Sharawi di esterno e esecua a scalotto per farvi capire anche il livello e stessa cosa Quara stessa cosa Mauro Zarate è normale che adesso sanno tutti che le finte che fa sanno tutti che è un giocatore fortissimo perché Quara non si discute lo marcano di più lui ne soffre oggi si è mangiato un gol che madonna si ha allungato il pallone poi bastava anche solo magari anche con la punta tante volte invece ha cercato addirittura col piattone col corpo all'indietro la palla è andata alta comunque tornando alle cose nostre allora la Juventus va avanti di un punto all'Inter l'Inter al match con l'Udinese che non è proibitivo c'è Samartic che ha dichiarato guerra ai tifosi nerazzurri però comunque la Juventus il fatto è questo che è uscita indene dal match con 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 l'Inter ha vinto a Milano a San Siro col Milan e adesso ha vinto col Napoli ha vinto con la Lazio deve giocare ancora con la Roma ha pareggiato a Bergamo soffrendo e meritava di perdere però vedete lo step che sta facendo la vecchia signora quest'anno è anche superare i big match vincerli magari anche non meritatamente però intanto li vince poi oggi non è che ha demeritato però il Napoli ha avuto delle chance grosse per fare gol ed è merito comunque dei partenopei se oggi non sono riuscito a segnare la rosa c'è c'è adesso io dico lo vedo in crescita il Napoli però deve fare di più comunque adesso io vado a vedere al di là della classifica però è una squadra che fa fatica addirittura a concretizzare a segnare dietro è vulnerabile con la perdita di Kim e le difficoltà un po' di tutti a partire anche da Meret che ogni tanto qualche passaggio a vuoto lo ama perché non ha aiutato dalla fase difensiva ma è la quinta sconfitta per il Napoli c'è praticamente il Napoli in 15 partite un terzo delle partite ha perse quindi questo dimostra fragilità anche forse una consapevolezza dei tuoi mezzi che è venuta meno mancanza di fiducia ma non deve accadere perché il Napoli la rosa l'ha anche i cambi che fa Mazzari sono cambi di qualità a parte un po' Cajus che è un giocatore che deve ancora entrare nei meccanismi però Raspadone è un giocatore che può incidere Simeone forse l'avrei messo anche prima per provare il tutto per tutto la rosa c'è ovvio che lo scudetto è accantonato ma già da un po' al di là poi delle zone di Garzia o no perché poi Mazzari non è che può fare miracoli però il quarto posto va centrato e non è scontato vedendo un po' la piega che ha preso la stagione ma la squadra c'è il gioco si sta ritrovando bisogna ritrovare adesso i risultati che ti danno anche nell'ambiente ecco quella fiducia che hai un po' perso la Juve mi viene da dire che deve continuare così magari anche esprimendo un gioco offensivo migliore con un po' più di coraggio perché magari succederà che nelle partite anche con le piccole tante volte magari vai sotto e poi magari loro sono bravi a chiudersi farai fatica a riprenderla però finché la Juve va avanti è difficile andare a riprenderla o fai come l'Inter che fa subito gol se no vedete che poi la partita va avanti loro abbassano sempre il varicentro e poi una loro forza fanno grande densità e superare la linea difensiva bianconera non è assolutamente facile e infatti si è vinto da questa partita signori like, iscrivetevi al canale e domani giochiamo noi a Verone non è un match assolutamente scontato, bella non è assolutamente scontato, bella